Mi trovo qui insieme a Taranta Peligna, ad Alberto Capo. Taranta Peligna che è il luogo simbolo della resistenza abruzzese e anche delle gesta eroiche della Brigata Maiella. Brigata Maiella che è l'unica brigata partigiana insignita della medaglia d'oro al valor militare. Giornata sempre ricca di significati, ma soprattutto occasione per ribadire alcuni valori fondanti di civiltà, sanciti peraltro anche dalla nostra carta costituzionale, ovvero libertà, democrazia, solidarietà e ripudio della guerra. Ricordo anche che cinque anni fa qui a Taranta ci fu la visita, l'omaggio alla Brigata Maiella da parte del Presidente della Repubblica Mattarella. Cerimonia sempre emozionante in cui oltre alle istituzioni e all'Ampi l'Associazione Nazionale Partigiani e a CGL, Cisle e Will hanno preso la parola anche alcuni studenti del Liceo Scientifico di Casoli per raccontare alcune testimonianze che hanno sentito magari dai loro nonni. Ed ora due contributi che abbiamo realizzato poco fa, proprio al termine della manifestazione, una manifestazione accompagnata da una splendida giornata di sole. il primo contributo che sentirete è con il Sindaco di Taranta Peligna, Gianpaolo Rosato e poi sentirete il segretario nazionale dello SPI CGL, Stefano Landini e su questo vi saluto. La linea può tornare a voi. È una storia plurale, è una storia condivisa, è una storia di popolo, è una storia spontanea. Noi ci scordiamo sempre, noi pensiamo alla storia come un qualcosa di lineare, alla fine vincono gli alleati e non era così. Tutti quanti si unirono quando tutto era ancora in dubbio e si rischiava davvero la vita. Ed erano ragazzi, erano uomini, che finita la guerra, finita questa lotta di liberazione contro uno degli eserciti più potenti e spiedati del mondo, tornò alle proprie case a fare quello che avevano sempre fatto. Lavorare spesso vennero anche dimenticati. È la storia di tutti. Altra cosa, si combatteva sì, ma per dignità, non per odio. Sì, è la frase di Calamandrei che raccoglie meglio lo spirito della resistenza. Nessun patriota, partigiano della Brigata Maiella ha odiato nessuno. Tutti quanti hanno amato la patria. Io ho avuto la fortuna di conoscerne tantissimi e quando ero piccolo e ho iniziato a capire chi erano e cosa avevano fatto, gli facevo tante domande. A una sola domanda non mi hanno mai risposto, quando gli chiedevo, ero un ragazzino un po' impertinente e così, ma tu hai mai ucciso qualcuno lì? Non me ne parlavano mai. Landini, il 25 aprile è una data carica di storia. Sì, è una data carica di storia e di significato. Io credo che essere oggi qui in un luogo più che ogni altro, che è simbolo della resistenza, una resistenza plurale, a cui hanno partecipato persone di fede politiche diverse, sia un significato importante. Averlo fatto, come stiamo facendo adesso, con la presenza di ragazzi e ragazze di un liceo, significa riattualizzare questi valori, tramandarli. Oggi che gli uomini della resistenza hanno perso la gara con la carta entità, noi possiamo solamente raccontare e raccontare, fare memoria, è l'unica possibilità per non morire e per non vedere svaniti quei valori che il 25 aprile del 45 hanno liberato l'Italia. Ci sono e chi sono oggi i partigiani? I partigiani sono coloro che si battono per la libertà, per estendere quella libertà nel nostro paese. Certo, il pericolo del fascismo non si ripresenterà più in camicia nera, a parte che noi un anno e mezzo fa come Cigelle abbiamo avuto devastata la sede. Però ci sono questioni di rimenti dal punto di vista delle libertà che vanno salvaguardati. Penso al fatto che chi nasce in Italia, qualsiasi sia il colore della pelle, è un italiano, che le donne non sono di proprietà degli uomini, che le famiglie si fanno tra le persone che si vogliono bene, punto, e che il fascismo è un crimine. Tutte queste cose lasciano ancora uno spazio per i democratici, per gli antifascisti, per costruire un'Italia migliore.